Sciamature in corso, sciamature in corso, mannaggia, se ne vanno. Guarda come escono, guarda, guarda. Per fortuna non riescono a mordermi. Sono senza protezioni che le ho appena viste. Vediamo se riesco a prenderle dove si appoggiano. Se ne stanno andando. Eh, vabbè. Vedo se riesco a mettere il video proprio qui davanti. Non so se si vede. Comunque se ne stanno andando. Ah, io ho pizzicato. Meglio se mi allontano. Uia, uia, uia. Ma sembrano due che stanno sciamando. Vediamo se riesco a vedere dove si appoggiano. A dopo. Allora, questo è il secondo video. Ecco qui dove si sono posate. Sono uscite da lì. Da questa cassa blu. O dalla viola, non sono sicuro. Ma penso qui della blu. Perché ce ne sono pochissime lì dentro adesso. Per fortuna si sono posate qui vicino. Adesso ho già messo già la scala. Non so se metterle nel portasciame. O in una cassa già direttamente. Comunque adesso le raccolgo. E dopo vediamo. Non so se farò un altro video. Se riesco a unirli. Vediamo come va. Comunque adesso le raccolgo. Mi metto le protezioni, i guanti. E le raccolgo. Ecco adesso ho raccolto lo sciame. Qui sono rimaste poche. Spero che la regina non sia qui. Le ho messe qui dentro. Sono nella cassa grande. Poi mi sono aiutato anche con queste altre due. Cattura sciame, portasciame. Vediamo se entrano tutte lì dentro. Sono a posto. Vuol dire che la regina è lì. Come vedete ci sono altri. Perché lì ho raccolto un po' alla volta. Speriamo bene che la regina sia dentro. Vedremo dopo. Dopo controllerò. E vedremo. Ok. Come vedete qui non ci sono più api. Sono tutte nell'arnia. Ho messo. Un foglio cereo già costruito. E due fogli cerei non costruiti. E un diaframma. E domani se ce ne sarà bisogno metterò un altro foglio cereo. O dopo domani. Vediamo quando le apro. Comunque per adesso tutte a posto. Abbi raccolte. Missione compiuta. Una donna. Grazie.